Ciao a tutti, tre modi per avere un'autostima da rockstar. In questo video voglio insegnarti come migliorare la tua autostima e avere un'autostima che ti consenta di raggiungere tutti i tuoi obiettivi della tua vita. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che su questo canale avrai la possibilità di abbonarti. Basta andare nella home page, tastina abbonati, vicino a tastina iscriviti e poi selezionare il tipo di abbonamento che preferisci. Ci sono tre livelli di abbonamento, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazione in seminario del vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. Ora, quello che tu puoi fare per migliorare l'autostima sono delle cose fondamentali. Prima però di arrivare a questo voglio ancora ricordarti una cosa che nel link, nell'info box, troverai anche il link al mio nuovo canale Crescita Personale con Massimo Terramasco. Ti suggerisco di iscriverti, intanto perché penso che un canale possa esserti utile, ma poi se raggiungeremo il quorum di iscritti entro fine giugno farò un seminario gratuito di tre ore sulla seduzione. Quindi magari puoi iscriverti e far iscriverti ai tuoi amici. E veniamo al tema, tre modi per avere un'autostima da rockstar. Allora, l'autostima è fondamentale per raggiungere gli obiettivi nella nostra vita, raggiungere obiettivi sentimentali effettivi, ma anche obiettivi lavorativi, autorealizzativi. Senza autostima non facciamo assolutamente nulla. Ora, perché il titolo tre modi per avere un'autostima da rockstar? Perché partiamo dal presupposto che è puramente teorico, puramente simbolico che le rockstar abbiano autostima. Poi magari non ce l'hanno, ma al di là di questo, beh, difficilmente sarebbero diventate rockstar, diciamo. Anche se molte rockstar poi avevano altre patologie, ma questo è un altro discorso. Allora, comunque, il tema è sviluppare autostima. L'autostima è la percezione che abbiamo di noi stessi in modo globale. Cioè, noi da un certo punto di vista siamo anche giudici di noi stessi e ci giudichiamo inconsapevolmente. Potremmo giudicarci positivamente o negativamente e da questo giudizio, che è un giudizio spesso profondo, spesso che non si manifesta a livello consapevole, nasce la percezione che abbiamo di noi stessi e quindi l'autostima che abbiamo. Ora, è importante imparare a sviluppare autostima. È molto importante, perché se impariamo a sviluppare autostima, impariamo ad avere delle sensazioni molto positive di noi stessi. Quindi mettere in atto delle profezie che si autoavverano positive. Le profezie che si autoavverano sono le self-fulfeeding prophecy. Cioè, sono delle profezie veramente, talvolta sono profezie di sventura, che noi ci creiamo e quindi danno il là a tutta una serie di eventi negativi che andremo a vivere. Ora, noi dobbiamo invece imparare ad avere un'autostima positiva. Allora, per capire esattamente che cos'è l'autostima, dobbiamo partire dal suo inverso, dalla disistima. Se è vero il verso, è vero anche l'inverso. La disistima è una percezione negativa di noi stessi, che è data da tanti fattori. I fattori che la determinano sono fisiologici, emotivi, e potremmo definirli spirituali. Ora, quindi, io devo partire dalla fisiologia, dal corpo, perché corpo, mente e spirito sono tre parti fondamentali dell'essere umano. Una che non può stare senza l'altra. Cioè, noi non possiamo non avere, diciamo, sono tre parti integrate. Non possiamo avere una buona autostima se siamo trascurati in una di queste tre parti. Allora, vediamo quindi come curarci, tra virgolette, procurarci autostima. Dobbiamo agire su tre fronti. Il corpo, l'emozione e lo spirito. Allora, il corpo, dobbiamo tenere presente questo. Il nostro corpo manda costantemente degli stimoli al cervello, riceve degli stimoli e li manda attraverso i sensi. Quindi, per mandare degli stimoli, in modo tale che il cervello, questa sovrastruttura, possa emettere un giudizio positivo, una sentenza positiva, noi dobbiamo, diciamo, avere cura del nostro corpo, della nostra fisiologia, del portamento e della postura. Quindi, se vuoi che fisicamente arrivi, diciamo così, il giudizio espresso sia positivo, devi prendere cura di te. Quindi vuol dire, in base all'età, comunque fare un programma di preparazione fisica, un programma di dieta che ti renda, diciamo, snello, muscoloso, muscoloso, insomma, ti renda fisiologicamente positivo, in modo tale che tu possa veramente stare bene con te stesso. E poi, anche il portamento e la postura sono fondamentali. la cura del proprio corpo esteticamente. Se tu vai in giro, a testa alta, petting fuori, spalle indentro, fisicamente sei una persona, diciamo, a posto, perché segui una dieta, segui un allenamento, ti vesti in modo piacevole, insomma, ti senti a tuo agio con se stesso, hai un portamento, una camminata sicura, una postura decisa, beh, sono tutti i segnali che vanno a mandare, ad elevare, ad alzare l'autostima. E da questo punto di vista l'autostima salirà inesorabilmente. Se invece fai il contrario, non ti prendi il cuore di te, c'è la pancia, sei grassa, sei grasso, hai una fisiologia, diciamo, un portamento tutto curvo, ingobbito, una postura, cammini in modo o nervoso, oppure traballante, oppure rapido e incerto, non hai un respiro calmo profondo, ma hai un respiro affannoso, molto alto, beh, è ovvio che il segnale, perlomeno che arriverà dal corpo, sarà un segnale di non vale niente, senachiavic, fondamentalmente. Ecco, quindi che questo è veramente importante, cioè prendersi cura del proprio corpo, della propria fisiologia, della respirazione, la respirazione è quell'atto che è una via di mezzo tra, diciamo, ciò che è consapevole e ciò che è inconsapevole, ma è molto importante. Poi un secondo punto è quello dei pensieri negativi, delle emozioni. Spesso noi ci procuriamo pensieri negativi che sono o crediamo di essere incapaci di affrontare gli ostacoli, quindi pensiero di impedimento, non sono in grado di superare gli ostacoli, o proprio di essere uscito difettoso dalla fabbrica, di essere proprio intrinsecamente incapace di avere qualche difetto, oppure credere che l'universo ce l'abbia con me, che di essere sfortunato. Ecco, se ci sono questi tre pensieri, è ovvio che vanno tutti a definire che tu non sei una persona in grado di stimarti, non sei una persona in grado di amarti, e quindi metterai in atto dei comportamenti che andranno esattamente in quella direzione. Quindi è importante invece eliminare questi pensieri negativi e sostituirli con pensieri positivi. Io ce la faccio, io ci riesco, io supero ogni ostacolo, oppure io sono capace, io sono perfetto così come sono, io mi amo e mi accetto così come sono. Altri pensieri di fortuna, io sono fortunato, io ho l'universo dalla mia. Ecco, questi sono tutti i pensieri che invece vanno nella direzione giusta. Sono l'antidoto, quindi la tecnica è quella di rendersi conto di quando c'è un pensiero depotenziante legato alla sfortuna e sostituirlo con un pensiero potenziante. E poi un'altra cosa fondamentale è avere, per eliminare le proprie paure, fare un percorso di crescita spirituale, cioè qualcosa che trascenda questa vita. Perché se noi ci facciamo prendere delle paure, delle paure che possono diventare ipocondria, che possono diventare paura di invecchiare, paura di morire, insomma tutte paure che tendono ad abbassare il livello di autostima. Quindi invece intraprendere un percorso che può essere anche attraverso una forma di meditazione. La meditazione, ad esempio, è fondamentale per costruire l'autostima. Meditare vuol dire familiarizzarsi con concetti positivi. Quindi vi sono diversi tipi di meditazione, si possono fare dallo yoga al buddismo tibetano, insomma l'importante è intraprendere un percorso di crescita spirituale, personale, che ci permette di avere una visione più consapevole e fondamentalmente riuscire a rientrare in armonia con se stesse e con gli altri. Perché soltanto che in armonia con se stesso, attraverso una forma meditativa, acquisendo consapevolezza, riesce ad avere una visione completa che trascenda questa vita e che lo faccia sentire veramente una rock star, veramente diventare il protagonista della propria vita, la star del film della propria vita e non la comparsa. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!